Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per il governo Conte Bis. Il premier è entrato nella sala dei galeoni per la tradizionale cerimonia della campanella che segna il passaggio tra i due governi, ma essendo rimasto lui il premier, ha ricevuto la campanella dal segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa. Ad accogliere Conte c'era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio uscente, il leghista Giancarlo Giorgetti e il suo successore Riccardo Fraccaro, a 5 Stelle. Conte infatti ha formulato la sua proposta di nomina, condivisa dal Consiglio dei ministri e il sottosegretario Fraccaro ha prestato giuramento assumendo le proprie funzioni.